Té San Benedetto Il tè più equilibrato nel gusto Il tè più gradito dai consumatori Il tè più acquistato dalle famiglie italiane Da un leader di mercato, una novità che ha la forza di un'onda T-Surf T-Surf ti stupirà con il suo packaging innovativo Unico, distintivo, speciale T-Surf, cavalca le onde del tè Il pack di T-Surf ti conquisterà perché È unico come il suo manico È attraente come il mare blu È pratico e intelligente come te È dissetante come nessun altro T-Surf, affascina i più piccoli, conquista i giovani T-Surf ti disseterà Due gusti, limone e pesca E tutto il gusto e la bontà del tè San Benedetto Un mare di fresche emozioni ti aspetta Sei pronto a surfare? T-Surf, cavalca le onde del tè L'unico, signs ti aspetta E la bontà del tè Siff,활ca i paz A presto